La nuova stagione di Pierragamela Outdoor si caratterizza per un calendario molto più ampio e ricco di offerte dei servizi e poi soprattutto con un'attività di comunicazione più incisiva che mira a raccogliere, quindi a sensibilizzare i turisti ad esempio che quest'anno arriveranno sulla costa terramana verso le attività che svolgeremo in montagna. E' un progetto che raccoglie e integra le attività di diversi operatori economici del luogo e quindi dagli operatori professionali della montagna alle strutture ricettive e alle attività ristorative. Attraverso Pierragamela Outdoor il turista potrà prenotare attività esperienziali e usufruire di questi servizi in maniera completamente gratuita in quanto i costi sono sostenuti dal progetto e quindi fare attività esperienziali di diverso livello, dalle attività più sportive legate all'alpinismo di montagna al trekking di alta e di bassa quota, ai laboratori ambientali, alle attività di tipo gastronomica e culturale. Questa è la finalità del nostro progetto che poi è finalizzata a affermare un turismo più residenziale e meno pendolare e quindi a fidelizzare la clientela verso le nostre attività.